Ciao, oggi vi mostrerò come realizzare una spara coriandoli. La potete utilizzare a carnevale o alle vostre feste. Mettiamoci all'opera. Cosa ci servirà? Un rotolo di cartigenica, delle forbici, un palloncino, dei cartoncini colorati utilizzati per altri lavori e degli scotch colorati. La prima cosa che faremo sarà rivestire il nostro rotolo di cartigenica. Io ho scelto degli scotch colorati ma potete pittarla o fare quello che vi piace di più. A me piace moltissimo l'effetto di questi scotch colorati. Prendiamo il nostro palloncino e tagliamo solo la parte superiore. Lo fissiamo intorno al nostro rotolo. Ritagliamo in modo irregolare i nostri cartoncini. Io ne ho già preparati un po'. Inseriamo i coriandoli all'interno del nostro rotolo. Grazie.